Giovedì sera al Teatro Incontro di Pinerolo, una sala gremitissima e a corsa per assistere alla proiezione dell'ultimo film di Sabina Guzzanti intitolato La Trattativa, distribuito dal 2 ottobre 2014 a come tema centrale la trattativa Stato-Mafia, la negoziazione tra lo Stato italiano e Cosa Nostra, o almeno la presunta negoziazione perché è in corso proprio un processo a Palermo su questo tema. La produzione del film, che è durata 4 anni e che è stato anche presentato fuori concorso al Festival di Venezia dello scorso anno, cerca di interrogarsi ma anche di dare qualche probabile risposta agli interrogativi che vengono fuori dalla storia italiana degli ultimi 25 anni. Ovvero che cosa si intende per Trattativa Stato-Mafia, quali concessioni in cambio della cessazione delle stragi sono state date, chi assassinò Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il tutto con una riflessione sui rapporti tra mafia, politica, chiesa, forze dell'ordine. L'autrice rappresenta la serata organizzata dal Movimento 5 Stelle e venerdì mattina realizzerà una proiezione apposta per le scuole del Pinerolese. Sabina Guzzanti a Pinerolo a presentare la Trattativa, come mai ha deciso di fare un film su questo tema? Guardi, come si decide di fare un film è un po' difficile da spiegare perché a un certo punto ti viene un'idea, ti sembra la cosa più importante del mondo, prendi e la fai. La Trattativa è sicuramente un tema fondamentale, la nascita della Seconda Repubblica, tutti i problemi che dobbiamo affrontare oggi nascono là, anche se chiaramente erano problemi anche antecedenti, però in quel momento si sono cristallizzati e sono diventati particolarmente difficili da affrontare, risolvere, riconoscere. Lei sta portando avanti un tour che ha detto non è stato mai fatto nella storia del cinema italiano, ovvero portare in giro il film in maniera itinerante nelle sale, nei teatri, nelle città italiane. Anche questo, forse la domanda può essere scontata, ma perché? No, dunque la cosa eccezionale non è che portare in giro il film in maniera itinerante, la cosa eccezionale è che questo film sia stato distribuito dalla gente che in tantissimi paesi italiani, città piccole e grandi, si affitta una sala, fa un manifesto e organizza una proiezione del film. Finora abbiamo organizzato 630, quindi un numero gigantesco, vuol dire che per 630 volte c'è stato qualcuno che ha fatto un lavoro molto grosso per far vedere questo film ad altre persone. Non è che io ci sono sempre, naturalmente in sei mesi non ho fatto certamente 600 e passa proiezioni, quindi questa è la cosa straordinaria, non è il fatto di portarlo in modo itinerante, è il fatto che la gente pensa che sia importante se lo distribuisce da sola. Domani sarà con gli studenti del Pinerolese, anche qui è molto importante il fatto di comunicare una verità, un pezzo di storia dell'Italia ai più giovani che non l'hanno vissuta. Sì, direi che sicuramente più giovani che tra l'altro hanno così pochi stimoli e hanno comunque la possibilità di conoscere un pezzo di storia e di vederla anche raccontata in un modo molto comprensibile, godibile e anche molto adatto ai giovani perché appunto c'è questo linguaggio misto, un po' di grafica, un po' di finzione, un po' di cosa che è semplicemente contemporaneo, insomma corrisponde a quello che tutti quanti vediamo guardando le immagini intorno.